Il male però non è un assoluto, il male è quel bene che dovrebbe esserci e che non c'è. Infatti quando noi ci poniamo il problema del perché c'è il male, noi vorremmo chiederci e chiedere a qualcuno e a Dio perché non c'è il bene. Vorrei che ci fosse il bene ma trovo questo male. Quindi il problema del male è il problema del bene, capite? Non del male, il male assoluto non c'è, non esiste. C'è un Dio buono e c'è il male che ha delle cause, quindi dobbiamo distinguere un male fisico e un male morale. Il male fisico è un limite iscritto nelle cose, è un limite della natura. Dio non ha creato il migliore dei mondi possibili, come dice Leibniz, ha creato, ci dice il catechismo, un mondo in stato di via, verso la sua perfezione ultima. Mentre il male morale, il peccato, è dipendente unicamente dalla scelta degli esseri creati. Gli angeli e gli uomini, creature intelligenti e libere, sono chiamate da Dio a camminare verso il loro ultimo destino, per una libera scelta d'amore. Però possono deviare, pecando, ribellandosi a Dio. A causa di questa disobbedienza, la ribellione a Dio e il peccato, il male morale è entrato nel mondo. Dio non è in alcun modo la causa di questo male, però rispetta la libertà delle creature, lo permette, e in modo misterioso sa trarne il bene. Vado verso la conclusione, mi chiederei a questo punto cosa succederebbe se Dio non ci castigasse. Tante nefaste conseguenze, soprattutto per la teologia. E qui vorrei fare delle applicazioni molto pratiche. Anzitutto, se Dio non ci punisse, non sarebbe un padre premuroso verso i suoi figli. Sarebbe un Dio che sta lì, che ha fatto il mondo e poi dice, va, va per i fatti tuoi. Saremo tutti dei deisti. Invece Dio è un padre premuroso, che ha cura di noi. Se Dio non ci castigasse, dovremmo anche smettere di parlare delle purificazioni passive della vita spirituale. Un linguaggio caro ai mistici. Dio che ci conduce attraverso delle sofferenze interiori per purificarci dal peccato e farci brillare con la luce della sua vita. Se desiderassimo sbarazzarci del concetto divino e sapiente, del concetto di divino e sapiente castigo, allora non potremmo più individuare precisamente l'inizio, l'ingresso del male morale che più ci attanaglia nel mondo, che è il peccato originale. Il peccato originale diventa una favola e come spieghiamo il mistero del male. Quei teologi che negano la verità del peccato originale, come fanno poi a dare una risposta al male? Allora si rifugiano in una ipotesi. Siccome il peccato originale non è una leggenda magari della Bibbia, il perché c'è il male nel mondo è attribuibile ad un mistero che ci sfugge, a cui neanche Dio può rispondere, ma Dio può redimere questo male diventando come tutti noi, soffrendo in quanto Dio. Dio soffre dove l'uomo soffre. Dio soffre non solo nel figlio sofferente durante la sua passione, questa è la vera e unica sofferenza, ma Dio soffre sempre. Dio soffre dove l'uomo soffre. Quindi non c'è più possibilità di redimere la sofferenza, perché anche Dio è costretto ad essere come noi. Capite? Se eliminiamo la possibilità, la verità di un castigo di Dio, se non abbiamo più un concetto vero di Dio, ma un concetto di Dio modellato sulle miserie dell'uomo.